Per il reset password di una casella chiocciolaruba.it o chiocciolatechnet.it registrata prima di dicembre 2011, non è possibile fare riferimento alla procedura indicata in questo tutorial, ma è necessario aprire una richiesta di assistenza dall'indirizzo assistenza.aruba.it slash reset-password-caselle-gratuite.aspx seguendo le istruzioni indicate nella pagina. Se la tua casella è stata registrata dopo il mese di dicembre 2011, per il reset password ti basta accedere alla pagina managehosting.aruba.it slash domini slash spediscidatidominio.asp Clicca il pulsante Vai presente nel box indicato e nel form inserisci il nome della casella per esteso e la partita IVA o il codice fiscale indicati al momento della prima registrazione. Adesso clicca Richiedi dati. Controlla l'indirizzo di riferimento della casella al quale viene inviata l'email che contiene il link di reset. In caso la comunicazione non risulti nella posta in arrivo, controlla l'eventuale presenza del messaggio nella posta indesiderata o attendi qualche minuto. Una volta cliccato il link, si viene reindirizzati nella pagina dove inserire la nuova password. Ripeti la password e clicca su Invia. Bene, la password è stata modificata con successo. La password è stata modificata con successo.